Ripassiamo insieme Casa Nova Cowboy. Sono 32 tempi su quattro muri. Iniziamo con i passi. Step, step, shuffle back, turn, turn, coaster step, bumps, bumps, rock, shuffle di tre quarti, rock, cross and heel and cross, sweep, cross step, 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 touch, step, touch, sailor step, sailor turn. E adesso lo facciamo con i conteggi. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3 and 4 and 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8. E adesso lo balliamo con la musica. E adesso lo balliamo con la musica. E adesso lo balliamo. E adesso lo balliamo con la musica. Ciao Oh, 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 oh Oh, 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 oh I said I'm not you're safe, you ain't hearing what I said Though I'm flying and threw it to me where you're feeling I know how it is, you can't get away Baby, hurry, you don't need me to think about Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti